Salve! Notate... Lo sguardo? No, no, non la faccia di minchia. Lo sguardo. Lo sguardo intenso. Bene, oggi benvenuti in questo nuovo video. Ma che è? Manco oggi video fuck, eh? No, nemmeno oggi c'è il fuck you time. E perché? Perché no. E perché no? Perché sono cazzi miei. Eh ma così tu hai iscritti... Ma cagatana minchia. Ma oggi potevo dunque lasciarvi senza video? Ancora una volta? E deludervi così? No. Non si fa. Quindi, oggi torniamo su un gioco che non tratto da molto tempo. E che ormai è diventato un caposaldo del mio canale. E non so perché sto urlando. Quindi... Datevi il video. Buti! Si iscrivete! Scandala! Mi chiedevo... Come è buono youtuber diventare ancora più ridicolo del solito? Ciao a tutti ragazzi! Come è il vostro trasporto? Chicks Murray e benvenuti in questo nuovo video. Qua oggi siamo su Team Fortress 2. Finalmente tornati su questo videogioco. Eh... Visto che effettivamente avevano anche ragione. Si. Eh... Visto che effettivamente anche voi avevate ragione. Che nell'ultimo periodo non è che facessi tutta sta grande varietà. Sempre con The Minecraft. Sempre con The Minecraft. Ma sinceramente non avevo manco tantissima voglia di registrare. Perché... Beh, sì. La scuola... Eh... Eh... Oh puttana! Eh... Eh... La scuola è un po' diciamo tutto. Eh... Perfetto. Già ce l'ha anculata. Già ce l'ha anculata. Attenzione, attenzione. Ecco, perfetto. Eh... 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 Scherziamo, eh? Nu... Nu scherzamo! Ah, ok. Eh... Eh... Non ho potuto fare nemmeno il video fuck perché ragazzi... Ho costruito un mostro. Cioè, seriamente... Non pensavo di aver scritto una bestia così grossa. È un video grossissimo! Io non so nemmeno quanto cazzo ci metterò a finirlo! Eh... Però voglio che esca bene. Almeno questi video... Ci... Ci... Ci tengo veramente troppo. E non sto capendo un cazzo. Che cazzo è Control Point? Penso che dobbiamo... Defenderlo allora. Eh... Sì, dobbiamo difenderlo. E allora... Che cazzo ne so io? Eh... Andiamo un po' di qua. Che cazzo gli devo dire? Ehm... È un bordello che ho giocato in Fortress. Comunque... Ci tengo che venga bene. Quindi non è... Non posso farlo finire o... O farlo comunque male perché verrebbe una merda e non mi va assolutamente... Assolutamente no! Va bene! Quindi... Attenzione! Oh! L'ho eliminato. No. Perfetto. Ottimo. Io sì che so giocare. Attenzione! Attenzione al Pyro! Attenzione al Pyro! Ok, ok. Quello che cazzo è? Eh... Lo scout veramente non sono completamente in grado di utilizzarlo. Non lo so. È troppo... E muori! Eh... La Madonna! Lui lo... Ah! Guarda che cazzo di scout è! 800 kg di vita a sto stronzo! Aspetta ho sparato pure la fissa di Mahomet! Ok. Volgarità gratuita! Aaaaaaah! Guarda! Assurdo! Sono stato ucciso dallo scout del cazzo! Ecco. Questo è la... Il vantaggio che avete se sapete usare lo scout. Se non lo sapete usare... Levateci mano! Come me! Ehm... Devo appunto finire questo video. E inoltre devo anche riprendere il progetto. Quello segreto. Sempre quello. Sempre quello. Che ho dovuto bloccare proprio per la fine della scuola. E... Devo riscrivere il video dello show di Murri che ho perso cambiando il cellulare con una testa di minchia. Lo devo riscrivere tutto da zero. E sicuramente non mi verrà epico come quello. Ma l'idea... Eh... Magari... Speriamo che ripensando all'idea magari mi verrà una cosa del genere. Oh ma ha rotto il cazzo! E... E quindi diciamo questo è un po' il discorso. Dove iniziare una nuova serie di Minecraft. Insomma... Dovrebbe essere un bel mesetto questo eh. Si spera. Almeno due... Almeno due o tre novità. E la puttana di tua sorella! Guarda che infame! Infame! Ehm... Io direi di cambiare. Mettiamo tipo il pyro che posso bruciare le chiabed o un po' di persone. Si mettiamo poi il pyro che possiamo bruciare le chiabed. Ehm... Quindi so... Spero che questo mese vi possia... Vi possia viaglieria. Si i capelli mi sono caduti. Perché già sono sicuro che qualcuno scriverà... ... ... Ok basta. Devo smettere di parlare romano. Non sono capace. Però è una malattia ormai. È qualcosa... È una cosa virale. Capito? Ti entra nelle vire. Eeeh! Pezzimilato! Manè! Ecco vedete perché non parlo dialetto siciliano. Perché verrebbe una cosa un po' vulgare però. Beiii! Alzo fuoco! Minchia, 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 mi sembra... Oh, guardate, guardate come arde. Guarda! La torretta del cazzo! Oh, però un po' di male l'ho fatto, guarda... Allora, il punto di controllo è stato capturato. Cos'era sto... ...sto incrocio tra Marzull e un talebano? Eh? Eh? Cos'era? Tra l'altro ho tipo fame e ho un buco così. Qua, nella bocca, in the stomach. Eeeh... Perfetto, perfetto, perfetto. Mmm... Ma io direi di nuovo di utilizzare... Guarda. Guarda che fanno le cose fallate, che non funzionano. Mentre questi... Neanche più gli ingegneri sono buoni in sto gioco, nemmeno quelli. Oh, puttana, Eva, e mo? E mo? Oh! Faccia di sborro. Guarda dov'è? Allora... Non va bene. Guarda, guarda come sei proprio un gay che ti vai a rinchiudere là dentro. Minchia, mo ti vengo a prendere, faccia di culo. Ahahahah! Bar to the hell! Eeeh! Thank you, Logos. Sì. Un culo assorto. Eeeh... Comunque... Sono contento, ti ho bruciato. IL PISELLO! Guarda no, ne ho ucciso un altro. Oh... Good, good, good. Me piasa quando faccio così. Eeeh... Cazzo ho bei tempi prima quando riuscivo a fare dei video ben surdi. Io spero che l'estate mi torni... Mi torni... Perché ho detto aiuto? Io non ho gridato aiuto. Ho gridato a prenditelo nel culo. Forse qui c'è un linguaggio in codice, non so. Non so fino a che punto questa... Guarda, 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 è il medico. Guarda, sei proprio... Un po' inutile! Non so da dove escano poi i nemici. Forse se escono di qua mi butto a capoitto. Ok, momento tattica! Se escono di cui... Ti prenderò di sorpresa. UO Sciences irritates wins! Warstand! Strence di Murray! SILIZZE! Tripla ragazzi, tripla Tripla cazzo! Perché non voglio fare le cose, ma sei bicimetto E mo so cazzi per tutti Ok, bellissimo Questo momento, mi è piaciuto, vale tutto il video Tanti mi piace per questo video Sono un like grabber e mi piace Il pisal, ok Te prenderai fuoco Come al tuo amichetto Sì, 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 tranquillo Ti ho leggermente brasato Le chiave Guarda come ti do fuoco Mamma mia Non ce n'è, non ce n'è Non ce n'è per nessuno Non lo so Come Pyro ti sei avvicinato al tuo record per le uccisioni in questo round Il mio record è 3 Il mio record è 3 Ne ho fatte solamente 2 Acciderboli, cazzo di Ok, acciderboli in borsa e bastava Niente, sono coglione Se mi ci metto divento veramente coglione Google, ciao Google Stiamo un tanto contro Gogless Oh, questa è la testa di lupo Come Ecco tuo figlio Sì, questo è tuo figlio Hai perso il figlio È allucinante, ragazzi Un ritrovamento Manco per ieri dei Filippi Manco la carramma Questo video è bellissimo, cazzo Niente, mamma mia Mi sta piacendo veramente questo video Sì, sì, sì Sono proprio scemo Sì, 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 sì Ma se non li prendiamo dal di dietro A loro gli piace Sì che gli piace Gli piace un botto Ok, io direi Facciamo una cosa Ma c'era tipo un curatore Lo so Qualcosa del genere Non si aspetterebbero mai Che li prenda da dietro E invece Invece Guardate cosa gli combina Murri Ci ha scassati i cazze Ecco Guardate cosa gli combina Murri Sì, bravissimo Guardate cosa Mi state proprio Bunciando Diciamo La verga Non sapete cos'è la verga Sappiatelo ragazzi Ok, ma mi sa che qua Faccio poco e niente Allora Parliamoci chiaro Parliamoci un po' chiaro Te devi sta' zitto Mi stai urtando Ah, f*** Guarda 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 come morirai Guarda come morirai Oh Sono Morto Ok Comunque ragazzi Mi sono rotto il cazzo Nel senso Non posso finire Un altro round di quest A me Per me Per la tripla Non lo so Mi ha un po' Toccato nel profondo Babà Fa culo Eeeh Spero che questo video Oh, bruciamo Bruciamo la cartina Eeeh Oggi l'azione di geografia Perdete le cartine Ok Eeeh Dopo questo messaggio Sicuramente molto Adatto A Non so Alla pace nel mondo E alla figa Eeeh Io vi ricordo Di lasciare un bel mi piace Se il video vi è piaciuto Se volete altri video Di tipo Ma perché Non me lo dite con un cometto Dai forza Ditemelo adesso con un cometto E io Sono sclerato Sono nove mesi Che vado a scuola E ho due coglioni Grossi Così Perfetto Eeeh Morirai Morirai Non posso morire Non posso morire Così Minchia Sono morto Perfetto Quindi io Vi ricordo Vi lascio a un prossimo video Eeeh Zucca Ciao 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 Grazie a tutti.